vediamo ora come poter utilizzare il fine target all'interno del particle flow il fine target non è nient'altro che un oggetto di riferimento il quale fa sì che le particles vengano attirate verso tale oggetto o verso una superficie questo operatore è molto comodo l'ho utilizzato in alcune produzioni come per esempio quella che stiamo vedendo attualmente che è una produzione per geolengas nella filter system for gas turbines nella quale praticamente mi sono occupato di gran parte degli effetti particellari come vediamo infatti abbiamo questo effetto di sabbia iniziale poi abbiamo dello sporco e questa fascia diciamo di particelle che si nota qui notiamo come siano dirette verso un punto comunque verso dei punti e poi esse confluiscano all'interno comunque del condotto di areazione alla fine poi l'art director ci ha chiesto di andare a modificare totalmente il senso delle delle particles e invece di avere una cosa molto più più densa abbiamo comunque questo effetto poco visibile perché comunque poco visibile di di flusso di di aria inizialmente avevamo pensato qualcosa totalmente di diverso come adesso andremo a vedere naturalmente abbiamo questo effetto con queste particles proprio di sabbia pura che poi creavano questa transizione verso un determinato punto logicamente questa è una prova quindi non è la versione finale con il render a colori di conseguenza si può vedere soltanto parte delle stesse particles notiamo però come queste particles che poi erano divise in tre flussi tre grandi flussi vengono attirate verso determinati punti e si si fermino comunque poi comunque continuino la loro corsa in maniera molto più lineare per realizzare questo effetto mi sono avvalso appunto del fine target il quale fa sì che le particles vengano attirate verso un determinato punto rispetto che o punto di una mesh oppure a un oggetto dummy rispetto magari ad altre tipologie di di riferimento vediamo quindi come poterlo utilizzare all'interno del particle flow quello che andremo a creare sarà un effetto molto semplice quindi andiamo qui innanzitutto a crearci a aprire il particle flow creiamo un empty flow con un bert in position icon e nel position icon scendiamo l'emissione in base al pivot andiamo a inserire anche uno speed abbassarlo leggermente ok andiamo a vedere cosa succede praticamente bene messo dal centro logicamente diciamo un reverse sono molto veloci quindi potremmo un pochino 25 e 5 abbiamo un po' di divergenza abbiamo una divergenza veramente bassa aumentiamo il numero di particles utilizziamo un rate a 150 100 200 andiamo a visualizzarle al 100% alziamo anche un po' il limite delle particles visualizziamo questo effetto ok a questo punto andiamo a inserire il nostro fine target fine target lo portiamo un attimo fuori quando andiamo a inserire vediamo che viene creata un'icona un dammi sferico questo dammi sferico sarà il nostro punto di attrazione ma se andiamo a vedere bene esso è composto anche dalla possibilità di scegliere un target che sia un'icona quindi in questo caso la nostra sfera oppure una stessa mesh andiamo a vedere cosa succede se noi utilizziamo l'icona lo spostiamo di lato inseriamo all'interno del nostro flow e vediamo già adesso subito che esse vengono attirate verso il nostro oggetto di riferimento in che modo vengono attirate? vengono attirate in base al controllo della velocità poiché noi possiamo controllare in base alla velocità e in base a un tempo in base al time oppure nessun controllo quindi non ci sarà nessuna influenza delle particles verso questo nostro elemento possiamo quindi dare in base alla velocità in base alla velocità possiamo variarne per esempio portare a 50 vediamo che sarà molto più bassa quindi impiegherà molto più tempo per arrivare ingrandiamo un attimino la nostra timeline per arrivare verso la nostra icona quindi avremo molto tempo da qui verso il nostro elemento possiamo anche variarne come per esempio portare a 100 variare una variazione e possiamo dare anche un'accelerazione limite all'interno delle nostre particelle possiamo sincronizzare in base al tempo a tutto il tempo in base all'età delle particles o dell'evento una durata dell'evento però molto interessante è poi abbiamo anche la possibilità di andare intorno al target e di considerare questo in maniera random oppure solo sulla superficie o in base a uno script a un vector script molto interessante però come vi dicevo è l'utilizzo delle mesh poiché io posso utilizzare una qualsiasi mesh ad esempio torus una qualsiasi mesh come elemento di richiamo rispetto alla nostra icona quindi io potrei attivare la mesh aggiungerla in base alla lista o aggiungerla ad quindi clicchiamo e vediamo infatti che le nostre particles ora sono attirate verso il nostro elemento magari non sono molto chiare andiamo a definire un colore più visibile ecco fatto sono attirate verso la nostra mesh naturalmente non avendo nessun elemento successivo non abbiamo nessun comportamento quindi non sappiamo che cosa si faranno dopo le nostre particles ma di fatto sta che avendo controllo sulla velocità andranno sempre verso una direzione infinita di conseguenza possiamo andare ad aggiungere altri elementi quindi possiamo tranquillamente portarle se vediamo un secondo evento che in questo caso avevamo già creato con uno stop con uno stop vedremo di fatto che le nostre particles si fermeranno poi sulla nostra geometria e questo è un po' l'effetto che abbiamo avuto nella creazione della nostra del video che abbiamo visto precedentemente quindi durante quella produzione lì abbiamo infatti utilizzato vari fine target i quali poi comunque andavano a collidere poi comunque su una geometria e si fermavano totalmente le particelle ma io potrei anche aggiungere un altro operatore molto molto comodo che è il nostro age test infatti se noi inseriamo l'age test l'age test è un operatore che funziona in base all'età quindi tutte le particles uguali o comunque superiore al frame numero 30 al time numero 30 con una variazione di per esempio 5 avranno un comportamento e saranno verso un altro evento cosa vuol dire questo? che tutte le particelle che saranno sul time 30 dal time 30 in poi o comunque da quel range più 5 o meno 5 in questo caso perché abbiamo una variazione a 5 si comporteranno come quello che succederà nel secondo evento al quale saranno collegate di conseguenza io posso andarle a linkare verso per esempio andiamo momentaneamente a linkarle in questo evento nel evento numero 2 vediamo che se le particles dopo il frame 30 si fermano nello spazio ok? quindi hanno nessun altro effetto se non quello di fermarsi di bloccarsi in base alla posizione dove esse si trovano in quel determinato momento ma noi possiamo anche inviarle ad un altro evento come per esempio con il find target un evento con il find target quindi vedremo che dopo centesimo frame inizieranno a scorrere verso attirate verso la nostra mesh verso la nostra mesh poiché in questo determinato caso sono attirate verso la mesh per poi andarsi a fermare di fatti sopra di essa ma io potrei fare un passo ancora in più potrei assegnare l'icona quindi in base all'icona attirate verso l'icona e si fermeranno ma al tempo stesso invece di attirarle solo sull'icona potrei portarle sulla nostra mesh per far questo ci basta quindi andare a inserire un altro find target che possiamo tranquillamente clonare portare ok al quale assegneremo di fatti il torus e vedremo che poi le nostre particles finiranno sul nostro torus leggermente non avendo nessun secondo evento andranno all'infinito ma se noi posizioniamo fatti lo stop avremo poi l'effetto desiderato ma ancora più interessante non è tanto l'effetto da da queste particles che arrivano spassano per forza all'interno del mio del mio dam della mia icona per poi finire sulla mia geometria possiamo anche far sì che questa nostra icona abbia un'influenza per la quale passino vicino quindi in base al controllo della velocità possiamo dire che un numero minore di x particles avranno un'influenza differente difatti se noi portiamo per esempio un valore di 50 vedremo che esse saranno vicine al nostro target ma non tantissimo anzi saranno distanziate di questo valore logicamente possiamo fare anche un'altra cosa oltre a utilizzare l'icona così di default possiamo tranquillamente assegnare una tipologia diversa di direzione in base all'icona quindi possiamo dare in base all'icon quindi in base all'icona che abbiamo del nostro emettitore del nostro source cosa non cambia molto abbiamo anche la distanza oppure in base all'icona della sfera infatti vediamo che nel nostro dummy sono comparsa appunto queste nostre frecce in più andiamo a portare il valore less a 1 per vedere meglio l'effetto vediamo infatti che esse sono attirate verso l'esterno per poi andare verso il centro della nostra icona e poi dopo verso l'esterno questo potrebbe essere un effetto molto carino da utilizzare tranquillamente in qualsiasi produzione per alcuni effetti un pochino più particolari oppure in base cilindrica quindi sarà fatta comunque lo stesso effetto però considerano come se ci fosse un cilindro e così via quindi in base anche alla superficie se abbiamo in questo caso una superficie avremo un effetto totalmente differente molto comodo questo effetto è infatti per poter realizzare effetti di attrazione verso un determinato elemento per poi infatti bloccarle oppure di morphing quindi io potrei avere anche più di un elemento più di una geometria come per esempio una tipot classica tipot io potrei tranquillamente impostare un position object impostare le particles a zero far si che sia un amount quindi una particle non rendiamo renderizzabile ok e far si che dopo x frame quindi magari andiamo a passare ancora un pochino e dopo un determinato periodo di tempo oppure ancora meglio utilizzando volendo un collision spot quindi andando a crearmi anche un un deflettore pensiamo un deflettore universale e lo animiamo di conseguenza ok logicamente dobbiamo variare un attimo il nostro flow quindi in una speed possiamo tranquillamente cancellarla a questo punto se l'hanno bloccata totalmente ok andiamo a aumentare le dimensioni quindi al passaggio del mio collision spawn il quale possiamo aggiungerlo quando esso andrà a tagliare la mia geometria esse saranno direzionate verso un determinato punto questo è un altro elemento potremmo in questo caso possiamo cancellare direttamente questo nostro event e collegarle all'event successivo quindi al find target successivo che è quello appunto inerente il nostro object se vengono tagliate poi vengono direttamente si trasportano verso un'altra geometria quindi se io vado a nascondere o comunque a rendere come box il mio torus avrò poi l'effetto di morphing naturalmente potremmo anche andare a raggiungere altri effetti quindi potremmo inserire un operatore forso collegato wind che crea infatti un po' di noise un po' di disturbo per la creazione e il trasporto dalle particles da un oggetto ad un altro oppure ancora potremmo andare a inserire un materiale con un particle age attivo il quale poi comunque nel tempo va a variare il colore da un elemento a un altro quindi potremmo operare in tanti diversi modi e ottenere comunque un effetto sempre molto molto efficace per il nostro obiettivo finale logicamente questo esempio è molto basilare e sfruttando al 100% le proprietà e le conoscenze naturalmente che uno apprende durante il corso potete poi comunque ottenere degli effetti sempre più particolari e leggiati e quindi con maggiori effetti visibili a Grazie per la visione!